Mattias Sule è vicinissimo all'accessione da parte della Juventus. 40 milioni la cifra fissata dal club bianconero, come ricordato anche da Alfredo Pedullà, e una finestra sulla Premier League. Sembra che sarà qualche club estero, in particolare della Premier League, che potrà assicurarsi Mattias sulle calciatore della Juventus in prestito in questa stagione al Frosinone. È nato il 15 aprile 2001, acquistato nel gennaio 2020 dalla Juventus per fargli fare inizialmente l'Under 17, passato all'Under 19 da gennaio 2021 e poi gradualmente attraverso la Next Gen anche in prima squadra. Però fino a questo momento ha accumulato 40 presenze nella Next Gen della Juventus e solo 21 nella prima squadra e addirittura 30 nell'Under 19. Pochissimi minuti, piccoli scampoli di partita nella Juventus prima squadra, prima di trasferirsi, di essere mandato, anzi per la precisione, in prestito per una stagione in Serie A al Frosinone. Con tristissima retrocessione maturata proprio all'ultima giornata, anche con sua sfortuna su qualche calcio di punizione e anche in precedenza nel corso della stagione su alcune situazioni da gol, dove comunque è stato molto bravo perché il suo contributo è stato notevole. 39 presenze, comprese 3 in Coppa Italia, 11 gol e 3 assist in 3262 minuti. Ma attualmente Sule è ancora un giocatore futuribile, un giocatore di grande qualità, a cui viene riconosciuto un grandissimo livello tecnico, anche di intelligenza. È uno di quei giocatori che puntano all'uomo, saltano all'uomo, fanno ottime giocate sui dribbling, sui filtranti. Valori infatti molto alti per Sule nel contesto della Serie A, ma anche nell'ambito europeo, comunque estendendo il suo rendimento all'ambito europeo. Solo che non ha mai giocato particolarmente con grande esperienza a livello UEFA, se non per il tramite appunto di qualche scampolo con la prima squadra della Juventus. viene da una stagione in una squadra che doveva salvarsi e non si è salvata, ha una valutazione di mercato di 25 milioni e quindi la valutazione, la richiesta della Juventus da 40 milioni impedisce. Probabilmente qualsiasi trattativa in Italia consente trattative verso l'estero, ma è difficile spingersi parecchio oltre i 40 milioni, pur con la consapevolezza che Sule potrebbe arrivare a valere 50 anche milioni, ma solo a seguito di un'ulteriore valorizzazione che fino a questo momento per scelte probabilmente sbagliate non è stata possibile. E quindi vendere Sule per 40 milioni sarebbe un affare probabilmente per la Juventus in questo momento. Diversamente si potrebbe evitare di venderlo, farlo valutare a Tiago Motta in ritiro precampionato ed eventualmente tenerlo per poi eventualmente cederlo l'anno successivo ad una valutazione più alta o dopo due anni. O magari non venderlo più perché non serve più venderlo da un punto di vista economico, ma soprattutto potrebbe diventare talmente forte e importante e titolare da diventare essenziale nello specifico nel gioco di Tiago Motta. Infatti molti tifosi sono contrari all'accessione di Sule perché riconoscono in questo ragazzo grandissime qualità e non vorrebbero privarsene, sarebbero dispiaciuti nel vederlo partire. Però da un punto di vista pragmatico deve esserci anche la consapevolezza che la Rosa della Juventus va costruita con una linearità progettuale per fare un certo tipo di calcio rispetto al quale Sule non è assolutamente incompatibile ma non si può neanche andare ad un'eccedenza di giocatori, soprattutto in determinati ruoli, altrimenti giocherebbero troppo poco e non varrebbe la pena, anzi si otterrebbe l'effetto contrario. Di sicuro le problematiche relative a Sule non fanno altro che raccontare meglio, in maniera evidente, quelli che sono stati appunto gli errori progettuali degli anni passati. Quanti giovani della Juventus sono stati trattati male, gestiti male, non sono stati valorizzati, non li si è fatti giocare e quindi non sono stati fatti crescere e anche sono stati a volte sviliti dal punto di vista mentale, caratteriale e dell'autostima. Ora questa nuova dirigenza della Juventus con il suo nuovo allenatore Tiago Motta deve fare delle valutazioni che sono tendenzialmente impopolari e anche rischiose. Il tutto dipende purtroppo da scelte che sono state fatte negli ultimi anni, nelle ultime stagioni che non rendono facile adesso la gestione della Rosa, il che ovviamente non autorizza a sbagliare o a continuare a distruggere, ma vendere Sule non sarebbe una distruzione se lo si vende bene, 40 milioni, con l'opportunità veramente di darlo in Premier League e quindi di rilanciarlo con sua massima soddisfazione perché possa veramente affermarsi come grande calciatore e nel frattempo sostituendolo adeguatamente con un giocatore che non lo faccia rimpiangere al netto del fatto che Sule non è mai stato nella Juventus ma solo nel Frosinone per ora. E quindi il vero rimpianto su Sule eventualmente non è neanche cederlo adesso e vederlo esplodere altrove, ma non averlo valorizzato, non averlo utilizzato fino a questo momento. Grazie. 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 Grazie.